E' stata eccita Che ne sai tu di quello che sento C'ho una fitta ma non me lamento Me lamento Amore è un corno I panni si asciugano soli E sto freddo non viene da fuori Io ce l'ho dentro Me ne andrò su una barca dei fiori Me ne andrò per un me lamento E' stata eccita Ciao sono Luigi Nicolás Martini ho 20 anni E questo è il video che sto facendo per partecipare al vostro programma Ho scelto questa canzone è stata eccita di Alessandro Mandarino Perché è un cantante che mi piace per parlare delle donne Le donne che sono la cosa più importante nel mondo Il simbolo della vita La donna è importante per l'uomo Anche se ogni tanto bisogna combatterci Anche tante volte insomma Faccio un esempio dell'altra sera che torno a casa Stanco Mi siedo sul divano C'è una partita da Roma Arrivato preciso a 8.40 Mi siedo Subito puntualmente la donna La mia ragazza è arrivata dietro Ehi ti ricordi che questa sera questo dobbiamo fare? No perché che dobbiamo fare? Dice no questa sera c'è un invitato C'è un nemici per mangiare la pizza Dico no stasera c'è la Roma Fammi vedere la partita E le è rispettosa subito Io sai che faccia Io sai questa ma la lega Artito Io sai la lega da dove pare Sado ma la lega io Gli ho detto A un certo punto poi mi viene Qua aspira polpa Le dice il 40 E mi dice Arsi i piedi Arsi i piedi Pare che stavo a giocare Una sudata terribile Una cosa veramente strana Le donne Estate città Grazie a tutti